Oggi a Balestrate si è tenuto un convegno molto importante con la partecipazione delle scolaresche. Si è parlato di due grandi temi, sicurezza stradale e violenza sulle donne. Sì, oggi abbiamo voluto riunire in un'unica giornata le due tematiche. Praticamente due giornate mondiali riconosciute dall'ONU. Il 25 novembre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e il 19 novembre, ovvero la terza domenica di novembre di ogni anno, ricorre la giornata mondiale contro le vittime della strada. Due tematiche molto importanti, su cui secondo me bisogna lavorare, fare prevenzione e sensibilizzazione. Abbiamo coinvolto le scuole perché è da lì che dobbiamo iniziare e oggi abbiamo fatto rete. Siamo riuniti i quattro comuni del comprensorio, Balestrate, Trappeto, Alcamo e Montelepre. Siamo riuniti per fare in modo che facendo rete si riesce comunque a promuovere un territorio sano. Oggi un convegno importante dove si è dibattuto su due temi, la violenza sulle donne e la sicurezza sulla strada. Lei è la dottoressa Picone, responsabile del CERT di Montelepre. Con lei parliamo di alcol e droga, dei rischi e la prevenzione degli incidenti stradali. Sì, io credo che occasioni come queste siano veramente preziose e importantissime. C'è una grande necessità di informazione corretta sui rischi che, soprattutto le persone più giovani, corrono nella loro inconsapevolezza rispetto ad alcuni comportamenti che possono essere vissuti semplicemente come gioco, in realtà sono dei rischi per la loro incolumità. Mi riferisco al tema degli incidenti stradali, ma anche tutto il grande capitolo di cui si è parlato oggi, interessantissimo, è centrale per la nostra società di oggi, che è il tema della violenza sulle donne. Quanto lavoro dobbiamo fare noi adulti per fare in modo che i ragazzi di oggi abbiano le idee chiare. Parliamo di dati. Quali sono i dati relativi proprio agli incidenti stradali? Allora, i dati sono purtroppo in netta crescita. Ci sono tanti dati che convergono poi a livello ministeriale per quello che riguarda la prevenzione degli incidenti stradali. Cioè, quello che credo sia importante mettere a fuoco è tutto il lavoro di prevenzione che a livello nazionale, a livello regionale e oggi, grazie al piano aziendale di prevenzione, noi come ASPE di Palermo stiamo portando avanti. E questo credo che sia il modo migliore per poter fare in modo che ci sia un'informazione corretta e che questi dati finalmente si riducano. Un altro problema allarmante è anche quello della droga. Quindi, cosa occorre fare per diminuire quantomeno i rischi? Informazione, informazione e prevenzione. Questo sicuramente sì. E chiedere ai ragazzi di oggi, in maniera lucida e determinata, chi ci guadagna? Perché loro non ci guadagnano sicuramente. Tolotti, oggi qui per lanciare il tuo messaggio di speranza e portare la tua testimonianza. Sì, oggi anche qui a Balestrate ringrazio il sindaco che ha aperto le porte a due temi molto importanti, la violenza e la sicurezza sulle strade. Il mio messaggio è sempre per la vita, di donare la mia forza in base a quello che mi è successo e quindi sensibilizzare i ragazzi ma anche la comunità, di denunciare e di avere rispetto prima per se stessi poi per gli altri. Quindi bisogna trovare sempre la forza per rinascere, per crederci e per amare da vita. Sì, purtroppo sì, perché dico io ho avuto due vite, perché una di queste è stata un martirio, ma dico tutto il resto fortunatamente, dico non ha subito un'aggressione come me, ma quando si ha una sola vita la devi sfruttare e la devi vivere in tutte le sue profumazioni, in tutti i suoi colori. Tu hai vissuto, possiamo chiamarla, una tragedia. Molte donne vivono la tua stessa condizione ma non hanno il coraggio di denunciare e di far sentire la propria voce. Quale consiglio dai? Ma io do sempre il consiglio innanzitutto di denunciare. Puoi essere aiutata e puoi avere sostegno, puoi avere qualsiasi forma anche in anonimato di chiedere aiuto. Quindi dalla chiesa, alla scuola, all'amico, all'associazione, anche io ho voluto creare un'associazione, l'ho chiamata Libera di Vivere, proprio perché la persona che ha bisogno di aiuto può sentirsi tutelata, aiutata e quindi seguita anche a livello legale. Andiamo un po' al retroso e ricordiamo la tua storia. Sì, io nel dicembre del 2003 ho subito un'aggressione da parte di un collega di lavoro e ho subito questa violenza atroce perché lui ha deciso di darmi quattro martellate in testa, una coltellata all'addome che ero incinta e poi mi ha cosparso il corpo con del combustibile agricolo, dandomelo alle fiamme. Mio figlio è morto, ho subito quello che si chiama coma, anche se io ho vissuto l'aldilà. Questi bambini che vestiti di bianco giocavano con delle corde, ho vissuto la serenità e la pace, ma non era il momento che Barbara rimanesse di là. Infatti mi sono svegliata, ho detto voglia di vivere, ho iniziato il mio calvario fisico e poi quello con lo stato, che purtroppo ha lasciato libero il mio aggressore. Quindi si può ricominciare. Si deve ricominciare. Si deve ricominciare.